Segnalate da più parti delle telefonate di presunti incaricati dell'Ufficio Tributi del Comune che dovrebbero procedere a demettere dei rimborsi ai cittadini interpellati. Smentisco che queste telefonate possano essere fatte dagli uffici comunali. Lo ha comunicato anche via social il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, all'indomani di numerose segnalazioni arrivate ai cittadini castiglionesi che si erano insospettiti dopo aver ricevuto queste insolite telefonate. Ormai evitare le truffe telefoniche fa parte della nostra vita digitale quotidiana, ha dichiarato il primo cittadino. Tuttavia alcuni raggiri per telefono non sono sempre ovvi. È quindi importante tenere il passo con le nuove truffe al telefono e imparare a identificarle. Questo perché a volte non è facile recuperare account personali o soldi rubati. L'amministrazione fa presente che le procedure amministrative di eventuali rimborsi tributari non vengono comunicate tramite telefono o email ma prevedono la predisposizione di un apposito atto amministrativo che viene notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Nel dubbio, conclude Mario Agnelli, per segnalazione di questo tipo invito i cittadini a rivolgersi direttamente agli uffici comunali o alla Polizia Municipale chiamandolo 0575 65 64 1.